Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio... Bro! Mettiglielo su per il c***o! C'era una volta un oscuro mistero nell'hotel nascosto tra le paludi, molto molto lontano. Questo è il segreto della notte di Shrek. E io chiaramente che cosa faccio? Devo giocarlo! Start! Bene, iniziamo. Cinque notti all'hotel di Shrek. Ragazzi, ho paurissima perché a me questi giochi, vi giuro, posso dire cose brutte se qualcuno mi spaventa. Cose molto brutte! Beh, vediamo, qua c'è Shrek abbastanza mozzata alla testa. Assurdo. E dice, sei solo un altro senza casa. Senza tetto. E poi dopo stai cinque notti qui in questo hotel. Sai che andrà tutto bene, come sempre è andata, giusto? Beh, se lo dici tu... Mi fido. Ah, ciao Shrekchino, tu sei... Io ti guardavo da piccolo, era il mio intrattenimento preferito. Eh, salve, io devo alloggiare qui, per cinque notti veramente. Non è che avete una camera per cinque notti, per favore? Bro! Dice, certo, certo, ne abbiamo una al secondo piano. Mi sto... Mi crea ansia. Guardate che faccia che ha. Io la mattina. Bro! Me ne va... Cazzo... No, raga, per favore. Ah, le porte, ma che... Ma che suoni fanno, porco di quel pizzone? Oh, Shrekchino, sei il mio amico. Ehi? Che cosa stai facendo? Oh! Che cacchio fa sto qua? Oh! Oh! Oh, bro, dove cazzo? No, 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 oh, oh! Fermo! No, no, oi, dove stai andando? Questo qua sta portando un corpo morto, palese. Niente, raga, è andato. Non posso andare. Assurdo, in questo hotel ci sono cose fuori di testa. Questo è... Ok, dice che deve andare in bagno prima di andare a dormire. D'accordo, andiamo in bagno, caro mio. Ma Shrek è veramente fuori di testa, perché adesso è arrabbiato con me, perché gli ho chiesto se ci fosse la stanza. Vediamo una... Oh, dov'è? Ma che cacchio... Come caspita sono fatte queste porte? Sì, è ancora arrabbiato, assurdo. Io vado... Posso andare in bagno? Eh, lo vedo che è qua. Grazie. Dice di non fare la pipì sulle mura. Va bene. Ci proverò. Non te lo garantisco, però ci provo. Chiudo la porta, perché sennò mi sento veramente spiato. Ma per favore, ma che cacchio... Vabbè, almeno, comunque, non ha fatto la pipì sui muri. Vabbè, me ne vado su. Allora. Ok, la prima notte ho dormito. Vediamo la seconda notte. Allora, è molto arrabbiato Shrek, perché... Oh, mio Dio. Questo qua... Che non mi ricordo come si chiama. Come cacchio si chiamava sto qua? Vabbè, praticamente è quello che ha portato il corpo, secondo me. Dice che ha fatto una grande cacola nel mio toilet. Va bene. Dice che adesso devi pulire. Vabbè, giustamente. Scusi, signor Shrek, adesso vado. E se mi fai andare, magari... Come... Raga, non funziona. Io me ne voglio andare via da qui, da questo posto. Oh, ciao, grazie. Perfetto, posso pulire. Va, va... La, 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 puliamo. Non avrei mai detto nella mia intera vita di finire in un hotel di Shrek. E di pulire il cesso. A me. Si fa quel che si deve fare, suppongo. Vabbè, fatto, Shrek. Che ne dici se adesso posso stare libero? Non ho fatto, va bene. Scusa. Ah, sta piangendo. Aspetti, ridò lo scopettone. Non posso. Orco due, ma che cac... Chi è stato quello? Beh, bella domanda, Shrek. Dovresti saperlo tu chi hai nel tuo hotel. Non credi? Non posso entrare. Va bene, io me ne sto in camera mia. Non me ne frega niente, guarda. Adesso premo E. Dice... Non mi sento addormentato. Magari devo andare a vedere un po' di paintings, cioè un po' di quadri. Ma come... Che cacchio stai dicendo? Qua io ne ho visto uno. Ah, giusto, il tizio stava guardando questo quadro qua. Però mi... No. Ci ha scatarrato... Ci ha scatarrato sopra, oh mio Dio! No! Dice che deve fare qualcosa. E beh... Sì. Ehm... Scorri. Scappa. Non sono stato io. No. No. Allora, siamo ritornati al punto di prima dove c'era il tizio strano che guardava il quadro. Eccolo qua. Adesso io devo guardare il quadro. La prima risposta non è stata molto buona. Quindi, adesso devo riguardare... No. Devo andare qua prima. Per attivare chiaramente la possibilità di fare quella cosa che mi aveva detto. Dice non mi sento addormentato, bla bla bla. Magari devo andare a vedere i quadri. Andiamocene a vedere i quadri, bro. Che te devo dire? Ma scusami, ma tu non potevi andare in un hotel più normale, mi chiedo. Vabbè, allora, praticamente... Dobbiamo scatarrare sul quadro, a quanto pare. Che schifo, giustamente, no? Dice, oh no! Che cosa abbiamo fatto? Devo fare qualcosa. Va bene, allora. Praticamente, prendo il quadro e boh, lo nascondo qui in camera. Porco di quel... Maialone, stavo per dire, ovviamente. Allora, vediamo. Dice, chi potrebbe essere? Ho sentito dei rumori che provenire da qua sopra. Beh, non so cosa hai sentito. Io non ho sentito assolutamente niente. Sei proprio sicuro? Sì, tutto quanto a posto, bro. Buonanotte. Ciao. Ciao, ciao. Qua abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Però, che te devo dire? E tu interact. Vabbè, adesso me ne vado a dormire, va. Perché, se no, qua qualcuno ci uccide. Però, praticamente... No, ci sta spiando. Ci sta dicendo. Praticamente c'è... Vediamo. Madonna, io ti mangio, ti mangio. Vabbè, che devo fare? Devo andare al piano di sopra. Vediamo una... Quello là sta continuando a dire le sue robe. Smettila di dire le tue cose. Praticamente qua, devo andare qui e devo mangiare. Questo era il tizio strano. Ok, non me ne frega. Ciao, prenderò un po' di... Boh, ho preso una cosa, raga. Non so che cosa ho preso, ma ho preso una roba. Ehi, che cosa stai facendo? Ciao, sono Carl. Piacere, Carl. Vabbè. Ho mangiato. Buono. Questo è stato il suono di Minecraft. Allora, Shrek. Vabbè, me ne vado su, eh. Va bene? Va bene? Immagino che vada bene. Dormiamo. Dormiamo, che bello. Quarta notte. Allora, in questa notte, ragazzi, dobbiamo essere super attenti. Perché Shrek potrebbe innervosirsi, ma tipo tanto. Qua ci sono delle scatole e non mi è chiaro bene il perché. Dove devo andare? L'Orco 2. Tua madre è veramente quella grande nonna che ti... No, non ho fatto... Sì. Dice... Ah, beh, allora sono stufo delle tue cose. Adesso devi pagare lavorando una notte per me. Vai sotto e prendi quelle scatole su e mettile in the warehouse. Allora, prendiamo le scatole. Ragazzi, ma questo ciuchino non è il ciuchino classico. Ma che cosa gli è successo? Ah, da questa parte. Ok, perfetto. Le metto tutte qua. Va bene, Shrek? Va bene. Ok, tranquillo. Io sono molto bravo, vedrai. Sono veramente un bravo trasportatore. Carl! Ciao! Come va? Spero bene. Devo prendere... Come va? Come va? Io ho detto. Tutto bene. Hai bisogno di aiuto? Beh, sarebbe bello se mi aiutassi a portare queste scatole sopra. Anche se sono solo tre. Oh, ma Carl è veramente un uomo di tutto fare. Va bene. Grazie, Carl. È simpatico. Mi sta simpatico, Carl, devo dirvi. Allora, però ho paura che adesso Shrek mi ammazzi. Perché ho detto a Carl... Ma come corre? Vabbè. È uno particolare, ma è un bro, insomma. È un bro. È molto simpatico. Allora, Shrek. Bravo, ragazzo. Ora puoi andare a dormire. Grazie. Ripeto, mi dispiace molto per quello che ho fatto prima. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio... Bro! Bro! Ma che cacchio ha? No, vabbè, raga, ma questo qua non è normale. Ma... Va bene. Allora, tranquilli. Non sta succedendo assolutamente niente. Io qua devo solamente andare da queste parti, andare un po' a vedere... No, qua comunque non si può aprire. Bro, statene lì fermo. Perché se vieni qua, ti giuro, mi cago addosso. Ma tipo tanto. Vabbè. Allora, io sto dormendo. Midnight zero. Che cosa vuol dire? Notte. A mezzanotte zero. Che cosa sta succedendo? No, per favore. Non dovevo andare a dormire. O forse è un incubo. Speriamo sia solo un incubo. Che cacchio devo fare qua? Eh, allora, è notte. C'è solo una lampadina rossa. Devo andare da questa parte? No. Forse devo chiedere a Carl. Vediamo. Carl. Bro. Carl. Carl. Ma mi aveva aiutato. Ma chi è stato? Chiudiamoci dietro. Carl. Ma è morto. Ma ho detto che mi stava simpatico. Ma l'ha fatto apposta, allora. Allora, scusa. Ah! Oh mio Dio. 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 La mia voce, raga, è andata via. Ho urlato talmente forte che la mia voce è andata via. Orco 2, oh. No, io, io me ne devo andare. Dove devo andare? Allora, faccio così. Prendo questa cosa perché c'era scritto di prenderla. Sto bevendo. Non devo bere. Dice, oh, mi sento forte. Ok. Allora posso, aha, posso bendare queste cose. Quindi mi avevano messo in prigione sti grandi bastiasti. Oh mio Dio. Oh, chi è quello? Chi è quello, raga? Avete visto? Carl, 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 Carl. Aspetta, aspetta, aspetta. Non era morto quindi? Aspetta, dobbiamo stare attentissimi. Ah, però mi sento di nuovo weak. Dice, grazie a Dio sei vivo. Allora, dice, devo vedere se riesco a liberarti in qualche modo. Io c'avo la bibita in realtà. Quindi magari la prendo e vediamo un attimo. Dice che non posso berlo più, solo più di una volta. Perché potrei entrare in overdose. Cioè praticamente potrei prenderne di più di quello che posso. E quindi morire magari o avere effetti in desiderio. Quindi prendi una ma non berla. Dai, prendiamo questa e portiamola a Carl. Gli dico, bro, puoi berla. Bevila e così diventi un super pro forte. Toh. Esatto. Tieni questo. Ok. Ok. Ha fatto tipo il meme. Vai. Porco. Urco, 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 urco. No, 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 non ho detto niente, ragazzi. Non ho detto niente. No, 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 no. Io questi giochi, vi giuro, mi fanno una paura che... Perdinci baccherino. Ah, mi sto guardando dietro. Oh mio Dio. Bro, 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 no, ti prego, no, ti prego. No, 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 che cacchio. No. No, no, no. No, bro, bro, bro. Stai, stai via. Io ti ho detto che mi cago addosso. Guarda che mi piscio sui muri. Vai via. Chi è questo qua? Oh, è Carl. È Carl, è diventato un super child. Vai, Carl. Siamo tutti in... Te. Ti fiamo, Carl. Raga, raga, raga. Ti fiamo... Vai, Carl. Su. Su, Carl. Distruggi sto grande figlio di p... Distruggi... Ho preso il razzo. Vai, vai, vai. Mettiglielo su per il... No. Grande. Carl, raga. Vedevo di... Pensavo peggio. No, vi giuro, io mi sono veramente preso un... Infarto. Cioè, io non dovevo urlare perché adesso la mia voce andrà via per qualche giorno. Quindi iscrivetevi al canale. Le ha detto anche Shrek qui. Mi raccomando. Lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao.